Registi, attori, sceneggiatori, scenografi, produttori. Tutti nel loro habitat naturale, il set. Movie Extra racconta il cinema. La cosa principale del cinematografico è proprio la luce. Il programma di Ray Movie condotto da Francesca Fialdini. Cerchiamo di, con un filo conduttore, di raccontare alcuni momenti che hanno caratterizzato alcuni anni del nostro cinema. Un percorso attraverso filmati inediti e testimonianze dei grandi protagonisti. Il Salone 1, seconda. Conservati nello storico archivio delle Teche Rai. Cerchiamo di preferire gli anni che hanno portato più fermento. A volte anche anni che, col senno di poi, sono stati riletti come momenti di crisi da cui però è nata un'idea nuova. Un viaggio in compagnia delle migliori trasmissioni che la Rai ha dedicato al cinema per esplorare il meraviglioso mondo delle pellicole italiane. Il Potembezzo è classificato, è candidato anche per il miglior film in lingua straniera. Movie Extra, mercoledì alle 12 su Rai Movie.